Nel concreto vogliamo portare avanti questi progetti offrendo dei sostegni, delle borse di studio, degli assegni di ricerca dei giovani studiosi selezionati a livello internazionale dal nostro Consiglio Scientifico. Quindi, come ho detto all'inizio, questo istituto è un istituto di carattere internazionale, quindi la selezione, come è già stato fatto e come continuerà a esserlo, verrà fatto secondo i massimi criteri di eccellenza a livello internazionale dal Consiglio Scientifico. Quindi speriamo anche di avere degli italiani tra i nostri borsisti, ma la selezione verrà fatta unicamente sulla base del debito. Un altro tema che ci sta particolarmente a cuore è quello dell'integrazione tra ricerca fondamentale e innovazione tecnologica. I TOPOI stanno attraendo sempre più interesse da parte di industrie, di aziende e per le applicazioni all'intelligenza artificiale che essi possono generare. Quindi devo dire che è un tema che ci teniamo a sviluppare, quello proprio del rapporto tra questi studi teorici e le applicazioni che possono generare in diversi contesti.